Ve la dico tutta a scrivere questo messaggio che riguarda Giorgia Lucini e Federico Lohschi, sono andata in difficoltà. Vi abbiamo già parlato di Giorgia e Federico, in un precedente messaggio. In quanto noi tutte dopo la fine della storia fra Giorgia e Andrea, avevamo rincominciato a favoleggiare di un possibile ritorno fra Giorgia e Manfredi Ferlicchia. Purtroppo così, non è stato? Giorgia e Manfredi, si sono comunque riavvicinati, hanno appianato molte divergenze, hanno in parte recuperato un rapporto, ma non sono andati oltre. Infatti attualmente Giorgia Lucini è felicemente fidanzata con Fabio Lohschi che nella vita di professione è giocatore di basket a Trieste. Ma quanto sono felici? Beh a questa domanda credo che potrebbe trovare risposta a questo messaggio che Fabio ha mandato a Giorgia dove letteralmente lui le chiede la mano? Te lo scrivo qui così magari mangiando il gelato sarai più dolce. Vuoi essere la signora Lohschi? E Giorgia ovviamente gli risponde di sì. Sono onesta non avevo capito che Giorgia e Fabio fossero già così, avanti nella loro storia d'amore.